Ciao a tutti amici, benvenuti nel mio canale, io sono Maira e io Gianni Bavati con The Sims 3 Animali Echo. In questo episodio adotteremo un bel gattino, ci serve però tutto l'occorrente per accoglierlo come si deve. Stavo pensando di attrezzare questa stanza, qui c'è una stanzina piccolina con poltrona e con udino che sinceramente non abbiamo mai usato. Quindi direi di eliminare la poltrona e anche il comodino e mettere qui tutto quello che serve per un gatto. Quindi andiamo nella categoria gatti, avremo bisogno intanto di un graffiatoio, o grattatoio che dir si voglia, cioè quello piccolino o quello un po' più grande che però non mi sta. No, invece mi sta! Ah, volendo mi sta, allora mettiamo questo. Vediamo che colore c'è, questo oppure questo. Facciamo questo che si intona di più con la stanza e lo mettiamo così magari spostiamo un po' in avanti il tappeto. Quindi questo piccolino non serve perché tanto questo fa la stessa funzione, anzi credo che il gattino possa anche dormire qui sopra. Quindi se non dovesse starmi la cuccia, e infatti non mi sta, la cuccia non la mettiamo allora, utilizzerà questa struttura come cuccia o eventualmente mi sa che andrà ad utilizzare questa. Perché ho visto che Ettore non la utilizza. Poi ci serve, quasi quasi, io toglierei una finestra e qui ci mettiamo un bel giochino, questo. Poi cos'altro potremmo mettere qui? Non so se mettere anche la ciotola. Sì, dai, mettiamo già la ciotola qui. Così ha tutto qui pronto. E basta, ci serve la lettiera, ma direi di metterla in bagno. Cioè questa qui classica, oppure c'è questa che è autopulente. Mettiamo quella classica, dai. Eccola qua. E basta. Secondo me non ci serve altro. Beh, ci serve sempre la cesta dei giochi. Che anche il gattino può utilizzarli e li la mettiamo qui. No, non l'ho messa. Così, perfetto. Basta. Mettere qualcosa di decorativo magari qui. Non so se magari ci stia una finestra un po' più piccola. Vediamo. Ci sono finestre piccole? Sì, volendo ci sta. E allora magari ci mettiamo... No, questa è troppo grande. Sì, ci mettiamo questa. E vado a riprendere i colori di queste però. Ha fatto? Sì, adesso sì. E anche questo. Ok, abbiamo tutto per il nostro gattino. Sto pensando magari di cambiargli anche il tappeto. Mettergli qualcosa di un po' più allegro. Sì, abbiamo i soldi. Andiamo sulle decorazioni, i tappeti. Qualcosa di adatto al nostro gatto. Potremmo mettere tipo questo. Che bello colorato. Tipo così. Sì, dai, mettiamo questo. Ok, ci siamo. Abbiamo messo tutto il necessario. Allora, svegliamo Dalia. La farei andare in bagno prima. No, non fare il bagno. E tre, ma fatti tu la doccia. Riempiamo già la ciotola. Nutri. Cos'era nutri? Ah, posso scegliere anche chi nutrire, va bene. E poi facciamo colazione. Finito di fare colazione, adottiamo il micio. Ah, avremo le bollette da pagare. Eh, ma adesso non abbiamo i soldi. No, che non venga di nuovo la gente più ignoratore. Speriamo di no. Li nostri animali come stanno? Ah, lei ha bisogno di bere. E allora bevi. Anche lei ha bisogno di bere. E allora bevi. Ah, dobbiamo pulirla. Eh sì, qua abbiamo bisogno di spazzolare perla. Tu invece devi fare la pipì. E allora fai la pipì. Ha finito? Credo di sì. E allora, aspettate, la mandiamo in bagno. Puliamo perla e poi adottiamo il gattino. Che non vorrei che poi lei si sentisse tipo trascurata. E vieni qua perla. Si è rotto qualcosa. Cosa è successo? Ah, bisognerebbe sgorgarlo. Vabbè, ci pensiamo dopo. Allora, cura. Facciamo un bel spazzola e puliamo gli zoccoli. Oh, la sta già meglio. Ah, sì, grazie. Pettegolezzi, va bene. No? Non ha voglia? Beh, è già pulita abbastanza, quindi non serve pulirgli anche gli zoccoli. Adesso adottiamo il gattino, quindi chiamiamo subito il servizio per l'adozione. Quindi, adotta un animale. Eccoli qua. Allora, cerchiamo di adottare sempre un maschio. Abbiamo questo che è adulto ed è aggressivo. Questa è femmina, femmina, maschio. Adulto, amichevole, pigro e sozzo. Questo è un gattino anziano. Adulto, geniale e stordito, povero. E questa invece è una gattina. Io quasi prenderei questo. Aggressivo, no. Scegliamo questo. Geniale e stordito. Cosa possiamo scegliere? O questo, o questo. Questo? Sì, dai. Sì. Ah, dobbiamo dargli il nome. E allora lo chiamiamo Fifi. Ok, grazie. Aspettiamo. Vediamo se arriva. Ah, poverino deve fare esercizio fisico. E allora, come al solito, vi mando al campo di addestramento appena avete finito di mangiare. Perché abbaia? Cosa c'è? Cos'hai visto? Vai qui. Magari lo accarezziamo un pochino così si calma. Usa c'è cura, spazzola. Ecco, si è calmato. Mi sembra di sì. Bene, loro hanno anche quasi finito di mangiare, quindi potete andare qui ad allenarvi. Allora, ci possiamo esercitare nel salto e, al solito, nella corsa con perla. Mi raccomando, tu non litigare con il micio quando arriva. Tutto bene? Stai meglio adesso? Ah, un po' di fame. Inseguire giocosamente Dalia, va bene. Gioca e insegui. Vediamo se corrono. Voi avete finito di mangiare? Andate, su. Eccoli, bravi. Ma non arriva il gattino. Non è ancora arrivato nessuno. Guarda che scappa. Inseguilo. Ecco, bravo, vai a prenderlo. Oh, eccolo, 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 eccolo. Buongiorno, è arrivato il nostro gattino. Ah, è la razza quella tipo egiziana, credo. Credo di sì. Dal manto emanculato è sempre una roba quella. Oh, ecco il tuo animale. Mostra gli affetto e offrigli una casa accogliente. Va bene. Dov'è? Eccolo qui. Benvenuto nella nostra grande famiglia con tanti animali. Iniziamo subito con l'affettuoso. Lascia fiutare la mano, su. Accarezziamo e diamo un bocconcino. Come va? Tutto bene? Ma perché lui abbaglia? Ma dov'è? Ma cosa c'è da abbagliare? Fiutare Fifi. Eh, dopo ci pensiamo. Magari hai fame, quindi vai a mangiare qualcosa. Non so perché continui ad abbagliare. Mangia. Oh no, c'è qualcosa che non va? Non ha voluto la carezza. Oh, il bocconcino però lo vuoi, eh? Proviamo a lasciarci fiutare ancora. Sì, però voglio spazzolarlo. Ha voglia? No. Riproviamo. Posso? Sì. Oh, gli piace. Bene, bene, bene. Ti vuoi. Sai, no. Fagli il bagno adesso no. Ordine di fare... Ah, sì, giusto. Personalizziamo anche il collare e... No, il manto no perché va benissimo questo. Però il collare glielo metto. Ha finito di mangiare lui? No, non è neanche andato. Lo stai mangiando? Ah, poverino, hai finito tutto. Eh, dopo ti riempio la ciotola. Nutri Ettore. Appena abbiamo finito con il gattino, pensiamo anche a lui. Eccoci qua. Allora, per quanto riguarda il collare, penso che sì, più o meno sono uguali a quelli che ci sono per i cani. Magari adesso ne mettiamo uno con la targhetta. Non sarebbe male. Oh, quello è il campanellino! Sì, mettiamo quello con il campanellino. Però non verde perché l'abbiamo già messo verde a Ettore. Quindi, no, mettiamo questo qui un po' più, magari, tendente all'azzurro. Anche al viola. Sì, è un misto tra un azzurro e un viola. Mi va bene così, magari un po' più scuro. Sì, perfetto. E c'è altro da personalizzare? No, c'era solo il collare. Allora, accettiamo. Eccolo qua, bene. Andiamo a vedere se riusciamo a riempire la ciotola a lui. Intanto, tu potresti venire qua e iniziare ad ambientarti un po' in casa. Non hai fame, però hai bisogno di divertimento. E allora no, cosa ti ho detto? Gioca. Gioca con... Ah, gioca con Dahlia. Non penso che... No, infatti Ettore non può fare nulla con queste cose. Con questo sì, ma ha già il suo cesto dei giocattoli. Aspettate che controllo se sta mangiando lui. Sì, 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 si sta mangiando. Sì, mi sembra che si stia ambientando abbastanza bene. Eccolo qua che gioca. Bene, bene. Nel frattempo, aspettate che controllo intanto loro come stanno. Se si stanno allenando, sì. Lei si allena tranquillamente, bene. E anche lei si sta allenando. Allora, facciamo una cosa. Finché i nostri animali sono tutti impegnati a fare qualcosa, andiamo a visitare il negozio per animali. Non ci siamo ancora andati. Quindi, vieni qua e visita il negozio. Qui si possono comprare, se non ricordo male, vari oggetti per i nostri animali. Ma sono tutte cose che si possono trovare anche nella modalità compra. Però diamo comunque un'occhiata. Vediamo se arriva. Ah, a piedi sei venuta. Ma non potevi prendere la macchina. Eccoci qua. Cosa? Uh, c'è un cucciolino di cane. Due ce ne sono. Salve, cosa possiamo comprare? Queste cose qua si possono solo guardare, infatti. Uh, ci sarebbe anche questa cuccia per canica, è bellissima. Allora, sì. Queste sono cose che ci sono già. Ah, no. Aspettate, ci sono effettivamente alcune cose che non si trovano. Nella modalità compra. Allora, per esempio. No, queste cose non ci servono. Allora, per i cavalli. Un bidone del latte. Però siamo attenti perché non abbiamo soldi. Quindi se c'è qualcosa di interessante lo compro. Altrimenti no. Ah, questo non abbiamo mai comprato. Adesso lo compriamo. La boccia per i pesci l'avevamo vista, mi sembra, con la famiglia di Clementina. Invece questa è un'altra cosa che riguarda i piccoli animali. Lo compro subito e dopo vediamo che cos'è. Questo è un altro acquario che non ci serve. Per i gatti. Sì, ci sono tipo questo grattatoio e questa cuccia che non ci sono nella modalità compra. neanche questa casetta. Che carina. E il letto a baldacchina è bellissimo, ma è troppo grande. E per cani vediamo se c'è qualcos'altro. C'è sempre la cuccia. Potremmo comprargliela. Mi ispira. Abbiamo i soldi? Sì. Per poco, ma ce li abbiamo. E basta. Direi che possiamo tornare a casa. Queste cose qui sono decorative? Sì, posso solo osservarle. Andiamo. Lui è qua tranquillo nella sua stanzetta. Aspetta che voglio provare a cambiare la cuccia. Dovrebbe essere qui. No, non qui. Ma qui. No, neanche. Abbiamo anche parecchi libri. Togliamo questa. Sì, è un po' diversa effettivamente. Che colore ci sono oltre a questo? Vediamo se me li mostra. Sì, resterei sempre sul colore rosso. Vediamo se me lo carica. Ah, si intonerebbe bene anche con il fieno. Sì, accettiamo. E poi ci serve questo. Questa qui praticamente è una sorta di teca in cui si possono allevare le formiche. Intanto cerchiamo di capire dove possiamo metterla perché è abbastanza grande. Ah, lo mettiamo qui sulla scrivania? Sì, potremmo anche metterlo lì. Camera direi di no. Qui non abbiamo... Ah, avremmo questo tavolino. Aspetta. Ci sta? Sì, ci sta qui. E allora eliminiamo questa pianta. Vediamo sempre se c'è un altro colore. Magari questo. Sì. Non so se ci siano già, magari. Sì, eccole! Guarda le formiche. Questo si può solo guardare, comunque. Qui c'è una specie di fattoria e le formichine che ci camminano sopra. Forse creano anche dei tunnel. Non mi ricordo. Aspetta, vediamo se Daya viene a casa. Ti piacciono? Sono enormi, effettivamente, come formiche. Sono un po' grandi, però. Interessante? Sempre rarabesi? Oh, c'è il gattino che ci chiama. Oh, poverino, è venuto qui. Tu puoi fare qualcosa? Sì, potrebbe anche interagire. Mostrano le formazioni con i piccoli animali, così come fa anche Ettore. Ma occupiamoci di lui per il momento. Dobbiamo stringere amicizie. Magari giochiamo un po'. Divertiti. Basta guardare le formiche. Loro stanno bene? Sì, hanno un po' di sedia, ma stanno bene. Ah, ha bisogno di distruzione. Cosa stai facendo? Distruisci il giornale. Ma cosa? Dove sei? Aspetta. Ok. Distruggi i giornali. Tanto qua ce ne sono un sacco. Mi dimentico sempre di buttarli via. Così mi aumenti anche la distruzione. Qui come sta andando? Ah, stanno giocando con il laser. Aspetta. Al contrario posso chiederle qualcosa? Giocano. Ti segui, divertiti, fatti accarezzare, fatti spazzolare, amichevole, fiuta. Implora. Implora cosa mi fa? Intanto, lui è amichevole, è pigro, quindi dorme di più, ed è sozzo. Mangerà rumorosamente in quantità smodata. Si toglierà di rado e non si farà problemi a essere malodorante. Sceglierà spessazioni che lo renderanno sporco. Va bene. C'è lo suonato il campanello? Perché? Oh, salve. Desidera? Non ne ho idea. È successo qualcosa? No, Ettore è qua tranquillo. Hai masticato i giornali? No. Cioè, sì, hai masticato ma ne hai ancora bisogno, quindi... Distruggi il giornale e potremmo anche portarlo in casa. Dai, dopo lo facciamo. Ah, questo è quello rotto. Sì. Abbiamo perso il gattino. Dov'è andato? Graffia la porta d'ingresso? No, questo assolutamente no. Non si può fare. Ah, vieni qua. Beh, vuole uscire? Ma guarda che puoi uscire tranquillamente. Aspetta. Incoraggiamento. Eccolo qua. Grida per essere sozza. Brava. Perché è andato ad aggraffiare la porta e questo è una cosa che deve imparare a non fare. Quindi dobbiamo sgridarle così lei impara... Ah, lei. Le sto donando del lei ma in realtà è un maschio. Scusate. Mi sono confusa. Dov'è? Facciamo tornare a casa che ha le nostre cavalle. Eh, mi dispiace sgridarti che sei appena arrivato. Oh, erino. Guardatelo con le orecchiette sotto indietro. No, dagli un bacino adesso. Accarezzalo. Chiusa la mano. Dagli anche un bocconcino. Povero. Prendiamolo in braccio anche. Tutto a posto? Ma non c'è neanche una luce qui dentro il garage? No. Siete tornate a casa voi? Sì, siete qua. Perfetto. Allora, aspettate che mi occupo un momentino anche di loro. Allora, mangia, bevi e fai un pisolino. Mangia, bevi. No, prima bevi e poi fai il pisolino. Lui come sta? Deve fare la pipì? E allora intanto vieni qua. Venite qua, su. Eccoli che sono arrivati. Potete magari interagire voi due? Questo cos'è? Ah, perché l'abbiamo sgridato, poverino. Essere sgridati non è la cosa più piaceva del mondo. Fifi dovrebbe essere più consapevole del proprio comportamento, almeno per ora. Bravissimo, vedete che ha capito già. Speciale, amichevole. Lecca fettosamente. Ah, comincia ad avere anche solo, poverino. Che carino! Non vuole lui, ma come? Proviamo a fiutarlo, allora. Dai, su, dovete diventare amici, mi raccomando. Bravi! No, però non hanno ancora voglia di darsi un bacino. Va bene, non importa. Allora, tu fai la pipì. E poi vai a dormire. Invece noi andiamo avanti con... No, no, fai la pipì in testa! Ma poverino! Allora, incoraggiamento. Cosa posso dirgli? Ah, perché è stato aggressivo? E allora sì, dobbiamo sgridarlo. Ecco perché non si sono dati il bacino. Oh, povero, ma mi dispiace sgridarlo. No, no, dai, accarezzalo. Aspetta, aspetta, aspetta. Altrimenti qua non facciamo amicizia. Accarezza. Dai, ho un buconcino. Lascio a fiutare. Eh, prendi un braccio anche. Com'è l'amicizia? No, dai, è buona. Per fortuna. Però devi imparare. Bene. No, non lo prendo in braccio. Prendi in braccio. Eccolo qui. Vediamo cosa si può fare affetto. Fai il bagno. Accarezza e poi lo abbracciamo anche. Il gattino può giocare con la palla? No, non può giocare con la palla. Oh, bene, dai, è affettuoso. Questo è importante. Stringi una grande amicizia eterna. Oh, bene. Sono già diventati grandissimi amici. Segui. Vediamo un po' cosa fa. Quindi se tipo lei adesso va dentro a mangiare o in bagno ci segue. Vediamo. Usa. Credo di sì. Sì, sì, sì. Ci segue. Bravo. Forza, vieni. Bene. Credo che lei abbia anche fame, infatti. E allora, mangiati gli avanzi. Cosa è successo qua? No, mannaggia. Ah, c'è un problema con il water. Aspettate, deve andare in bagno per caso? Sì, avrebbe bisogno di usare la vescica. E allora usa. Basta seguire Dalia e usa la lettiera. Lei non sta andando a mangiare. Mangi gli avanzi. Bene. Bravissimo che fa la pipì. A posto? Sì. Avrebbe bisogno di graffio. E allora, vieni qua. No, graffio. Ah, perché è stanco. Allora, ispezione intanto. Non c'è una luce qui dentro? Uh, dobbiamo pulire le gabbie, accidenti. Ah, no, non c'è neanche una luce. Allora, aspettate, poverino. È qui al buio. Ne ne metto una qua, così. Ti piace? Sì, sì, gli piace. E allora fai il pisolino. No, non il pisolino, scusami. Dormi, dormi. Dorme. Oh, bene. Ha preso l'insipatia. Dalia? Ok, grazie. Beh, ce l'abbiamo fatta, credo. Abbiamo stretto una grande amicizia eterna. Sia con Olga, sia con Fifi, sia con Ettore. Chissà che nel prossimo episodio riusciamo a convincere l'unicorno. No, intanto aspettate perché vediamo. Lui sta dormendo. Sì. C'è un fantasma? Ah, c'è la musica dei fantasmi. Speriamo non entri nessuno in casa nostra. Comunque, dicevo, lui sta dormendo e quindi è a posto. Appena si sveglia andrà a graffiare qualcosa sicuro. Lei sta dormendo, va bene. Loro stanno dormendo. Vediamo anche Perla dorme. E allora facciamo andare a dormire anche lei. Benissimo. Do un'occhiata veloce se per caso c'è il nostro unicorno. Sì. È qua. È sempre lui. Emir si chiamava. Sì, è sempre lui. Mannaggia. E allora facciamo così. Ci fermiamo qua. Con questo episodio. Nella prossima parte riprendiamo esattamente da questo punto. Andiamo dall'unicorno e gli chiediamo di diventare amici. O meglio di entrare a far parte della nostra famiglia. Che così finalmente riusciamo ad avere un unicorno. E poi sempre nella prossima parte andiamo avanti a vedere anche le interazioni che possiamo fare con i gatti. Quindi ci fermiamo qua. Lasciate un like e un commento se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale. E noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti.